un caro saluto e un buongiorno a tutti quanti e tutte quante un brevissimo video è del dipartimento della giustizia degli stati uniti questa è la pagina ufficiale trovate il link nella descrizione del video ed è di mercoledì 2 settembre 2009 adesso andiamo a vederlo tradotto automaticamente in italiano si tratta del dipartimento della giustizia che praticamente parla della più grande frode della salute nella storia dove la faes ha pagato 2,3 miliardi per un marketing fraudolento questo che andiamo a vedere adesso è la traduzione in automatico prendetene atto grazie buone cose a tutti spegnete i televisori spegnete i device spegnete tutto per le vostre libere ricerche invito a scorrere le migliaia di video attraverso i link che trovate su indice alfabetico dal sito web www.tinelli.eu su questo canale youtube avete anche l'incredibile raccolta di playlist suddivisa per tematiche le playlist le trovate anche su indice alfabetico contrassegnate da questo indicatore sempre a disposizione il risveglio a colori solo nel formato ebook ma nella versione cartacea è solo in bianco e nero su questo canale come sul secondo mi comporto esattamente nello stesso modo di come esercito il regime in auto carica viene eliminato qualsiasi commento che non rientra nella mia narrativa delle scoperte fatte come libero ricercatore ma non impongo nulla ognuno è libero di eseguire e ripetere quanto proposto e scoprire la verità oppure di lasciare il canale continuare a credere e crogiolarsi dentro il sistema di indottrinamento grazie a tutti